io mi chiedo cari signori davvero che senso abbia commercializzare e comprare smartphone come questi nel 2024 ma stiamo scherzando ok ragazzi forse il commento iniziale è stato anche un pochettino troppo esagerato però non sono del tutto ironico nel commentare in questo modo questo samsung ci sono diversi pregi ma anche diversi difetti sul dispositivo come questo ma io ho chiesto su instagram se mi interessava la mia chiacchierata su uno smartphone economico ho targato samsung quindi l'ho acquistato l'ho provato e finalmente posso raccontarvi a mio modo come al solito cosa penso di questo dispositivo me lo avete chiesto voi e quindi eccovi accontentati ma partiamo dall'inizio ragazzi ho acquistato di mia tasca questo samsung galaxy a25 5g e per questo devo ringraziare lo sponsor di questo video ovvero muero ma ve ne parlo più tardi e dopo aver speso poco più di 200 euro su amazon anche qui scopro che mio malgrado samsung ha deciso come nei suoi top di gamma di non mettere nulla all'interno della confezione non ho trovato una cover non ho trovato l'alimentatore non ho trovato una pellicola pre applicata e se con un top di gamma da più di 1000 euro magari un cliente può anche permettersi di acquistarlo o acquistandolo in bandolo all'inizio vi regalano tutto qui al suo interno non c'è niente quindi se dovete comprare questo smartphone anche per fare un regalo vi troverete a spendere oltre i 200 euro anche altri soldi per metterlo al sicuro perché magari lo dovete regalare un ragazzino un parente a un anziano e dovete spendere ancora soldi e non va bene porca miseria se quindi della confezione sono particolarmente deluso devo dire che il design non è affatto male ho scelto questo nuovo giallo davvero molto bello bello anche il profilo ma è tutto di plastica attenzione nessun materiale premium secondo me va benissimo così è più leggero e si rompe anche meno facilmente ma ragazzi quando si passa nella parte frontale mi è venuto un sciopon in veneto mi è davvero venuto un sciopon mi chiedo come nel 2024 si possa uscire ancora con degli smartphone con queste cornici con questo goccia attorno alla fotocamera che dè un diciamo un design di uno smartphone ormai di 3-4 anni fa e sono un po' stufo perché ormai questo costa 200-300 euro e gli altri brand si sono impegnati molto per realizzare qualcosa di più ottimizzato sotto il profilo delle cornici almeno ok ok però calmi avete ragione poi lo si utilizza si comincia ad utilizzare il pannello di ottima qualità superiore alla media degli smartphone su questa fascia di prezzo è completamente piatto è luminoso è appagliante alla vista e pensi ok non sarà bello da vedere con queste cornici che poi sono più pippe mie che di altri perché ho fatto vedere questo smartphone a mia moglie non è che è caduta dal letto gli è venuto sciopone anche lei per le cornici ha detto ok vabbè è un telefono economico ci sta il peso ragazzi visto la diagonale di soli 197 grammi quindi sembra quasi uno smartphone finto si perde all'interno delle tasche la colorazione poi è davvero molto particolare perché innanzitutto non rilascia impronte non è affatto scivoloso ed ha una buona sensazione di resistenza nonostante il display amoled però il sensore per le impronte di sblocco non si trova sotto al vetro come tanti altri samsung ma si trova sul tasto laterale di accensione sulla cornice devo dire che funziona bene molto bene abbiamo jack per le cuffie l'audio è stereo e proprio per quanto riguarda l'audio devo dirvi che è di buon livello ha un buon volume stereo appunto come detto ma non è gracchiante non è un suono fino ha un po' di corposità e non me lo sarei aspettato su una macchina che costa 240 230 fra poco sicuramente meno di 200 euro per quanto riguarda l'audio in capsula devo dirvi che si sente davvero molto bene mentre per il resto poi abbiamo l'nfc l'otg funzionante perfettamente ma per completezza vi dico che non c'è il sensore ieri per usarlo come telecomando non abbiamo l'uscita video della tipo c non abbiamo nemmeno la certificazione ip68 ma visto il prezzo in questo caso ci sta insomma non lamentiamoci proprio a priori di tutto e finalmente ragazzi parliamo del display che è davvero notevole un amoled a 120 hertz da 6,5 pollici full hd plus con mille nits di picco sia la riproduzione di colori che la qualità del pannello è davvero tanta roba il video che state vedendo è stato registrato proprio da questo samsung in 4k e come vedete sia il dettaglio dei colori del mio nuovo portafoglio moero in sappiano blu navi ma anche la personalizzazione nella parte frontale è pazzesca la qualità ragazzi colori e dettagli dei prodotti alla perfezione ecco ragazzi il pannello oltre ad essere di buona qualità davvero di buona qualità si vede davvero benissimo sotto la luce diretta del sole all'aperto la sensibilità anche al tocco è ottima e ragazzi anche il trattamento all'impronte per le impronte è di livello certo le cornici non si possono guardare ti fanno venire uno schiappone ma per il resto secondo me va benissimo la cosa bella cari ragazzi che come nei top di gamma di samsung abbiamo tutte le funzioni dei veri cattivi del mondo samsung overo un'ottima calibrazione del pannello che è praticamente perfetta il doppio tap per il blocco lo sblocco del dispositivo la tendina che si abbassa dal centro del display e poi hai il display sempre attento il display sempre acceso mentre non capisco il perché ragazzi netflix non si vede in full hd viene riconosciuto dal wide wine in l3 e quindi viene i video li vedrete solo in sd non ho capito il perché ma tant'è e siccome so che me lo chiedete si tranquilli funziona benissimo nova launcher con tutti gli swipe del caso e poi poi c'è da dire che non abbiamo pubblicità e applicazioni da disinstallare rotture di balle come succede con altri smartphone economici che magari vi danno un processore un pochettino migliore ma vi riempiono lo smartphone di un sacco di applicazioni inutili che magari vanno a vendere spazio dello smartphone proprio per abbassare il costo qui non ho avuto questo problema insomma passiamo ad altri aspetti un po' tecnici la vibrazione è così così forte ma non mi ha convinto molto mentre convince molto il software ragazzi esse con android 14 ed è aggiornato alle patch di sicurezza di gennaio 2024 ecco qui apriamo un bel capitolo trovatemi un medio gamma da poco più di 200 euro aggiornato con android 14 patch di 2024 in gennaio 2024 è praticamente impossibile quindi per me samsung sta lavorando bene anche con questi dispositivi non top di gamma prima di parlarvi delle prestazioni che è un punto un po dolente del dispositivo voglio parlarvi di un altro aspetto che invece mi ha davvero convinto nonostante il prezzo per prima cosa vediamo le foto i tre sensori nonostante due siano di discutibile utilità risultano di buon livello vi faccio vedere diverse foto guardate come mantengono lo stessa parità su tutte le tre lenti nonostante il prezzo devo dire molto molto bene come bene anche il dettaglio del sensore principale da 50 megapixel che grazie alla stabilizzazione ottica non ha fatto mai un errore nel scattare le foto anzi devo dire che mi ha sorpreso in questo mentre ragazzi per quanto riguarda i video beh vi faccio vedere uno spezzone direttamente qui così vedete la qualità effettiva dello smartphone non è molto stabilizzato devo dirvi ma i colori mi sembrano davvero ottimi e per parlare di colori torno a farvi vedere il mio portafogli come vedete speciale in quanto nella parte frontale c'è una fotografia che ha scelto debola per farmi un regalo con lei e la mia lana guardate i colori vi faccio vedere avvicinando comunque il portafogli tantissimo sul sensore principale come si comporta devo dirvi che a livello di colori assolutissimamente ci siamo alla grande sotto questo punto di vista mi piace un sacco anche il fuoco è ottimo guardate qui e nel frattempo vi state gustando anche il mio portafogli con zip porta monete porta carte insomma un classico portafogli moero di alta qualità questa volta speciale con tanto di dedica nella parte frontale o meglio di foto nella parte frontale come al solito cari ragazzi tutte le foto scattate da questo samsung galaxy a 25 le troverete all'interno del mio canale telegram delle offerte mentre qui sotto in descrizione nel primo link cliccabile vi lascio anche al sito di moero.it con il mio codice sconto gesù 10 che vi permette di risparmiare il 10 per cento su tutti i portafogli presenti all'interno del sito moero e mi raccomando se andrete a personalizzare il vostro portafogli come ha fatto debora con il regalo per san valentino che mi ha dato qualche giorno fa mi raccomando taggate sia il sottoscritto che anche ovviamente moero che vi ricondivideremo all'interno di instagram mi raccomando fatelo e adesso andiamo avanti quindi cari ragazzi display che mi è piaciuto al netto delle cornici ok per quanto riguarda le foto sono davvero ottime i video non sono super stabilizzati ma comunque sono di buona qualità ma da qualche parte il telefono doveva avere una lacuna no e le lacune ci sono e sono soprattutto dell'utilizzo giornaliero e indovinate per colpa di chi? cari ragazzi la colpa è del processore l'exynos fatto in casa di samsung e ti pareva che non fosse quello il problema ti pareva purtroppo cari ragazzi qui dentro abbiamo l'exynos 1280 che è lo stesso processore legnoso laggoso che provai su galaxy a 53 dell'anno scorso se a questo ci aggiungiamo un software che non è leggerissimo i lag ci sono l'esperienza di utilizzo è ben lontana dai vari poco xiaomi motorola che girano molto più fluidi a parità di prezzo di questo dispositivo e i lag ragazzi non dipendono dalla poca potenza perché il mio solito file con cap cut nel trasferimento e nel ricalcolo per esportarlo ci ha messo un minuto 18 secondi e non è lontano da altri dispositivi sulla stessa fascia di prezzo per sopperire quindi il problema delle animazioni azzoppate basta eliminare gli swipe ed usare i tre tasti qui nella parte bassa mentre ragazzi per velocizzare un pochettino il sistema e rendere lo smartphone un pochettino più brillante passatemi il termine basta abbassare a 0.5 le animazioni all'interno del menu sviluppatore ecco che lo smartphone risulta essere un pochettino più reattivo a diciamo le animazioni meno pesanti e il tutto fila un pochettino più liscio ci tengo però a precisare una cosa si nota come ci sia sempre un po di ritardo da quando schiacciamo a quando si apre un app ecco gli manca qualcosa quella cosa di essere fulminio di essere un pochettino più reattivo ed è un po la sensazione che ricordo che avevo anche con il galaxy a 53 qui ci tengo a dire anche una cosa però ragazzi questi smartphone notoriamente migliorano un po nel tempo cioè con gli aggiornamenti riescono a risolvere un po questo problema ovviamente io lo noto di più perché ho sempre telefoni da 1000 1200 1500 euro in tasca se uno non ha un riferimento di uno smartphone top di gamma da utilizzare tutti i giorni questi lag che io vedo questi intoppi non sono così drammatici però per chi è abituato a utilizzare smartphone un pochettino più reattivi sicuramente se ne renderà conto quanto riguarda la ricezione è nella media dei samsung né più né meno la qualità in capsula l'ho già detto è ottima è uno smartphone dual sim o single sim più sd per andare ad aggiungere memoria ai 128 giga del mio sample e vi ricordo che questa versione è quella con 6 giga di ram magari quello con 8 giga gira un pochettino meglio non ha la possibilità della sim elettronica non registra le chiamate in modo nativo il wifi è di tipo 5 non 6 peccato il gps ok e funziona android auto senza nessun tipo di problema mentre per quanto riguarda la tipo c che non ha l'uscita video è del tipo 2.0 e parliamo finalmente dell'autonomia un altro punto interessante abbiamo infatti sotto alcofono 5000 mAh di batteria con ricarica a 25 watt pochetti ma sono smartphone economico per me ci sta ma la durata nell'uso quotidiano mi ha soddisfatto parecchio mi ha permesso di fare più di 6 ore di display sono arrivato anche quasi a 7 ore ieri e qui sono solo al terzo ciclo di carica lo sto utilizzando ragazzi praticamente da tre giorni quindi secondo me andrà a migliorare nel tempo perché poi lui impara un po i nostri i nostri utilizzi con intelligenza insomma del dispositivo e l'autonomia migliorerà ancora ovviamente non è uno smartphone certificato ip68 mi sembra di averlo già detto e non ha nemmeno la ricarica wireless ma ripeto sui 230 euro non credo esista smartphone con queste certificazioni o con la ricarica wireless quindi caro gesualdo lo consiglio oppure no questo smartphone allora parliamone a prezzo di listino ragazzi di uscita assolutamente no ma non credo ci sia nemmeno stato mai a quella cifra quindi diciamo che è un mi per tutti quegli utenti che vogliono comunque uno smartphone che funziona bene ma non è troppo reattivo per tutti quelli che so già che mi scriveranno ci sono c'è motorola c'è xiaomi che va molto meglio e molto più potente avete ragione verissimo ma quegli smartphone a livello fotografico a livello magari di display hanno altri limiti magari non sono aggiornati come questo quindi se cercate le buone foto secondo me lui se cercate un bel display sicuramente lui è un bel prodotto se cercate reattività smartphone che funziona bene con tanta ricezione ovviamente dovete passare altrove per tutti gli amanti di samsung che non cercano il top di gamma e non cercano la super reattività a 220 210 200 in giù sicuramente ci sta al netto della lineosità e queste cornici da sciopo bene ragazzi per oggi è proprio tutto mi raccomando come sempre se vi va solo se vi va iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto mettete un bel like a questo video e io per questo vi ringrazio davvero tantissimo commentate con un bel hashtag samsung si oppure hashtag samsung no se questo dispositivo vi ha convinto e noi ci vediamo prestissimo sempre qui sul mio canale youtube come al solito e mi raccomando fate i bravi ciao ragazzi e a presto e moero grazie per il supporto ciao signori buongiorno come state sì quando partono questi video 1080p a 30 frame per secondo dalla cam frontale da questo smartphone economico è perché ne sto testando uno nuovo quindi intanto potete apprezzare la qualità della cam frontale che a display non mi sembra malaccio forse un pochettino troppo giallo però per il resto secondo me va anche bene la qualità mi sembra buona ecco sono però un po indeciso ci sono alcune caratteristiche di questo smartphone che mi piacciono parecchio altre che invece mi lasciano un po così e stavo pensando ha senso portare sul canale youtube dei prodotti che non mi convincono a pieno o secondo voi è giusto che io vi porti comunque tutte le mie esperienze per evitarvi eventualmente di fare un acquisto sbagliato perché a volte mi sembra quasi brutto no portare un prodotto che poi magari non acquistate che non vi serve non vi interessa però dall'altra parte potrei farvi evitare di fare quell'acquisto quindi non lo so fatemelo sapere vi lascio con me il box qui sotto sia per la qualità video che anche per questo ragionamento fatemi sapere come la pensate ciao ciao Grazie a tutti